Iniziano al presidente dell'Amenesba Mauro Castelli, è stato un mercato di alto livello, anche sorprendente per i nomi che sono arrivati. Sì, ma sai, diciamo non più di tanto, nel senso che per quanto riguarda l'ultimo acquisto del Playmaker sicuramente è una figura importante, una figura con molta esperienza, anche se è giocata prevalentemente al sud, ma con delle giovanili interessanti sulla menzana Siena diciamo nel giovanile, ha vinto anche uno scudetto, quindi un ragazzo interessante. Sui due stranieri ovviamente sono tutte scommesse, che noi siamo costretti a fare da un punto di vista economico perché pare strano ma gli stranieri costano la metà degli italiani e con i budget che abbiamo a disposizione noi poveri, consentimi, però insomma volevo trovare una squadra con molta dignità per rappresentare la nostra città. L'avevo promesso che era giusto che fosse così, ci abbiamo messo una settimana in più ma insomma abbiamo bisogno di più di 100 giocatori e alla fine abbiamo fatto questa scelta che spero sia quella giusta. Aggiudicare dalle immagini comunque insomma sembra davvero un gran giocatore. Sì esatto, Rodriguez viene dalla Serie A2 Argentina, quindi ci aspettiamo tanto, però sai, come dire, bisogna anche vedere poi in un campionato di Cigold italiano come si può trovare. Anche per lui è la prima volta in Italia. Diciamo che sono scommesse che forse è bene che noi ci proviamo, se non ci si prova noi che non abbiamo l'obiettivo di vincere a tutti i costi, insomma, penso che sia giusto così. Mentre Tenev è un ragazzo con molta esperienza, ha giocato in Germania, molto simile all'Italia come qualità di gioco, quindi forse è un pochino più esperto. Vediamo se questi tre ragazzi riescono a integrarsi interamente nella Cigold nostrana. Io sinceramente sono molto contento, sono sicuro che dovrebbe venire fuori, ci vorrà un po' di tempo ma un bel gruppo. Un bel gruppo che siamo un po' traditi che è la sua. Sì, ripeto, siamo entrati adesso, dobbiamo conoscere il campionato, ci vuole un po' di calma, vedere un po' com'è la situazione. Poi ovviamente l'appetito viene mangiando, non nascondo che siamo lì, proviamoci, però già per noi riuscire a stare in mezzo al campionato sarebbe un successo veramente, veramente grosso per la città.